È un intervento che rientra all'interno del progetto del Bando delle Periferie, è un investimento che ci ha permesso anche di aggiudicarci il Bando delle Periferie con contributi nazionali di circa 11 milioni e 200 mila euro, che prevede una riqualificazione complessiva di tutta quest'area che è già partita con skate park, palm trek, il teatro della piccola ribalta, un locale di pubblico spettacolo a ridosso del teatro della piccola ribalta. Stiamo andando in gara ora per la ciclabile, il ponte di collegamento che permetterà ai cittadini di Tombaccia, diciamo della zona nord della città, di collegarsi al parco 25 Aprile. Questa è una struttura sportiva per il gioco delle bocce, omologata per le gare nazionali, in zona non c'erano fino a prima. Il vecchio bocciodromo che andremo a dismettere in Concordia potrà essere alienato, quindi parte delle risorse impegnate per la realizzazione di questa struttura verranno recuperate attraverso l'alienazione del vecchio bocciodromo. Qui è prevista ovviamente una sala bar aperta anche all'esterno, quindi la possibilità per tutti i nuovi fruttori e vecchi fruttori di quest'area di utilizzare dei servizi del bar. Abbiamo la caserma, l'area camper, quindi tante attività a cui il bar può fare decisamente comodo. C'è una tradizione di biliardo molto forte anche al vecchio Concordia che si svilupperà anche in questo luogo. Quindi tutte quelle attività che fanno sì che in questa pezza di città ci sia una vita piena, dai più piccoli appassionati di skate e di palm track ai più grandi magari che giocano a biliardo, giocano a carte o giocano a bocce. È un impianto che qualcuno contesta ma secondo me deve avere grande dignità. È uno sport come tutti gli altri. Il Comune ha investito tantissimo negli impianti sportivi, dai campi di calcio alle palestre. Stiamo preparando il bando di gara per la nuova palestra legata alla scuola di Via La Marmora, quindi una palestra con omologazione coni, quindi con grandi potenzialità sia per la pallacanestro che per la pallavolo. È una società attenta allo sport che fa dello sport il fiore all'occhiello, anche del turismo in bassa stagione.